Il Ministero conosce il valore di Olostem e la straordinaria importanza che i suoi prodotti rivestono per la cura delle malattie rare. Ho quindi dato oggi il via libera all'acquisizione della società da parte della Fondazione Neatec, subordinando la stessa a tre indelogabili condizioni. Grazie Presidente, grazie Ministro. Se lei oggi in quest'Aula annuncia il salvataggio di Olostem e la continuità dell'attività di Olostem, io mi ritengo soddisfatto. Se lei subordina questo a qualunque condizione, la mia soddisfazione non è piena. Sa perché Ministro? Perché salvare la vita al piccolo Hassan, che era in fin di vita ed in coma, un bambino siriano che aveva bisogno con le staminali di ricostruire il tessuto della pelle, non so se ha compatibilità industriale e se sta nei conti dell'azienda, ma quell'intervento non ha prezzo. Ridare la vista a persone, lo ricordavo al collega Benzoni, che con l'utilizzo delle cellule staminali ripropongono e ricostruiscono il bulbo oculare, è evidente che forse non ci fa stare dentro coi conti ed è qui che serve la dimensione pubblica di un Paese. Ebbene ha fatto se ha dato il via libera, se ha firmato quell'autorizzazione e se dal primo di dicembre Olostem continua ad esistere. Però dobbiamo metterci nella testa che serve un management adeguato, serve un'azienda all'altezza della sfida che ha, ma serve anche l'imperativo condiviso insieme che non si chiude Olostem perché vuol dire chiudere una speranza. E sarebbe retorica continuare a parlare di fuga dei cervelli, di ricerca e di innovazione se alla prova dei fatti il Parlamento, il Governo e la politica non fossero in grado di garantire questa continuità.